...1940 che vediamo di là e poi qui era un'avanguardia tecnologica, cioè il Ruston, vedete il telefono senza prefisso, 55142, parliamo degli... Questi erano i vagonetti cosiddetti decoville, cioè scoperno, le rotaie venivano posizionate a mano sulle salite degli argini, poi fatti in piedi. Sì, si possono avviare e funzionano. Allora, adesso mostriamo qua, vi faccio vedere. Ok, così si va bene. Bene? Se c'è una scossina vi mettete posizionati vicino a quella parete colorata. Non tanto questi, quanto questi qua. Allora, tutte le pareti sono, esempio, da qui a questo ufficio, qua, è abbastanza impressionante. Se non fosse andato sotto i tavoli, è quello di qualcuno, forse voi non vi ricordate perché non l'avete sentito, a gennaio c'è stato un colpo di terremoto durato poco, perché è durato poco poco. Però noi siamo usciti, abbiamo fatto una roba fobia. Anche qui, è uscendo... E poi adesso, diciamo così, non vedete tutto il disordine perché ovviamente, con calma, i materiali necessari... Le cose più importanti è che la sua batteria. Le cose per la normale operatività dell'azienda. E' come io a casa che ho tirato sulle cose essenziali. Esatto. Che era ovviamente presente, come per esempio, la comunità e altre. Quindi, a dire che, allora, il portale è nuovo, perché questi tipi di struttura non sono sicuri oppure... No. La faccia. Ovviamente, cioè, qui non stiamo parlando di... No? Sì, sì. Perché in alcune strutture... No, 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 è coordinato. Perché ne farlo so niente. Quasi tutti i capannoni. Questa è una struttura degli animali in Italia. Con i pannelli infilabili, no? Assicurabili. Erano semplicemente appoggiati. I pannelli più voltaici. C'erano parecchi. Abbiamo cercato di recuperare qualcosa. Il magazzino odorizzanti, il deposito odorizzanti, con il quale CPL serve tutti i comuni d'Italia e le municipalizzate per l'odorizzazione del gas. Un'attività importantissima per CPL e anche per la sicurezza dei cittadini. Era stata costruita in maniera antisismica e infatti non ha fatto una crepa. È stato un momento abbastanza difficile per i collaboratori, però comunque abbiamo dovuto subito muoverci per non star lì a aspettarne un altro. E poi ne è venuto un altro, purtroppo ne sono venuti diversi. Comunque noi siamo stati anche abbastanza fortunati in questa azienda perché non abbiamo avuto dei danni o piccoli danni. In questa azienda, in un'altra azienda nostra che è nel centro storico, la qualità zona rossa, che è un maglificio, che era una vecchia struttura degli anni 60, là purtroppo è rimasta ferma, è rimasta bloccata. Diciamo che in quell'azienda siamo usciti tutti, sono usciti i collaboratori, ma le macchine e le attrezzature sono rimaste là. Io sto anche lì aspettando l'autorizzazione per poterle recuperare. Abbiamo parlato col sindaco che ci ha aiutato, ci è stato molto vicino, ma comunque abbiamo preparato un piano di evacuazione, finanziato dall'azienda, finanziato da noi, garantito. Con due ingegneri che hanno garantito l'operazione con una ditta specializzata, stiamo purtroppo però ancora aspettando l'autorizzazione. C'è un po' un rimpallo fra la protezione civile, fra i vigili. Vorrei ripetere che comunque il sindaco c'è vicino, sta collaborando, sta spingendo perché arrivi questa autorizzazione. Sì, i circhi, i nostri amici o di parenti del Presidente hanno dato immediatamente la disponibilità di queste strutture che consentono la refrigerazione ai container, circa 130, che sono disposti per l'accoglienza di impiegati, tecnici e operai. Quante persone lavorano allora sotto questi tendoni? Sotto questi tendoni sono 500 persone qua a Concordia e altri 100 nella sede di Mirandola, ugualmente colpite dagli eventi sismici. Noi abbiamo cercato di fare il massimo perché, insomma, per farci carico di una fetta di problema, insomma, molti sfollati non avevano con sé neppure i documenti, neppure il portafoglio, per cui, insomma, in questo caso abbiamo cercato di allestire in fretta un camper per sopperire a un fabbisogno primario, insomma, di avere qualche banconotto in tasca anche solo per comprare qualcosa da mangiare o anche medicinali. E questo proprio in tempi quasi immediati, grazie anche al lavoro della nostra organizzazione che ci ha allestito dai camper uso civile a veri e propri sportelli mobili, nei quali poter offrire alla nostra clientela un servizio essenziale, insomma. Questo poi ha portato a un'evoluzione, chiaramente il passo successivo è stato quello di allestire il container, nel quale, insomma, siamo operativi al 100%, pur in una criticità legata, insomma, a un servizio che di fatto è un po' snaturato rispetto a quello precedente. Non ci dobbiamo fermare e direi che non ci stiamo fermando, i collaboratori sono stati molto bravi, sono venuti giù dai piani superiori, siamo tutti un po' nei container fuori, un po' nel magazzino, un po' come vede siamo ammucchiati qua e continuiamo a lavorare, continuiamo a lavorare e contiamo, auspichiamo, confidiamo di potercela fare. I comuni d'Italia e le municipalizzate per l'odorizzazione del gas, un'attività importantissima per CPL e anche per la sicurezza dei cittadini, è stata costruita in maniera antisismica e infatti non ha fatto una crepa. CPL ha vissuto il terremoto come azienda in emergenza ma anche che doveva fornire assistenza ai suoi clienti durante l'emergenza. CPL è immediatamente si è attivata su due fronti, uno esterno in servizio ai clienti, cittadini, enti pubblici, scuole, ospedali che erano stati colpiti dal sisma nei comuni vicini di Finale Miglia, San Felice, Mirandola. E anche dal punto di vista interno l'immediata riorganizzazione delle attività operative, il servizio di call center, contact center, ecogenerazione, a servizio ovviamente dei clienti che abbiamo in tutta Italia e che non erano colpiti direttamente dal sisma ma evidentemente avrebbero potuto avere riflessi da queste conseguenze. Purtroppo la moda non aspetta, noi abbiamo presentato le collezioni questa stagione, la prossima primavera estate l'abbiamo presentata a Parigi e a Milano, sono già che stanno vendendo, i nostri collaboratori stanno vendendo le collezioni, siamo riusciti un po' in ritardo, siamo riusciti comunque a presentarle, stiamo correndo per la produzione perché abbiamo dei tempi molto limitati per la produzione dell'autunno-inverno. Noi fortunatamente lavorando col mercato estero abbiamo la fortuna che il mercato l'abbiamo, stiamo lavorando bene, non abbiamo problemi, però comunque se non consegniamo nei tempi giusti i nostri buyer, i nostri clienti esteri non ritirano la merce. I nostri danni sono più per i ritardi di produzione, i nostri danni anche perché la nostra filiera produttiva, che nel caso specifico della maglieria è tutta qua attorno, di conseguenza abbiamo tutti i nostri partner, i nostri collaboratori esterni, i nostri partner che lavorano per noi, che anche loro sono fermi, o hanno la merce dentro che ce la devono dare indietro, qualcuna ce l'ha ridata, qualcuna non ce l'ha ridata, perché anche loro spettano le autorizzazioni per farcela uscire, come le tintorie, come i maglifici, in maggioranza sono questi i gruppi che sono in difficoltà. Ho già invitato uno psicologo e farò appunto una riunione con uno psicologo e poi chiederò ai collaboratori e alle collaboratrici se vogliono appunto approfittare di questa consulenza perché questo psicologo sarà a loro disposizione per comunque vedere di alleviare o di mettere in condizioni di perdere un po' questa paura, perché noi adesso siamo i piani bassi, stiamo ristrutturando il secondo piano, ci saranno gli uffici nuovi e in questi uffici entro ottobre vorrei ritornare. Non ci sono diversità di classi sociali, di politica, assolutamente, si è tutti fratelli. In quel senso lì veramente il terremoto, che è una tragedia immane, poi in particolar modo nostra, proprio di concordia, ha dato questo input, che c'è una fratellanza che non c'era mai stata.